Il Balletto del Sud presenta la stagione di Danza Inverno 2024-2025, decima edizione. Dal 13 ottobre al 9 febbraio, tre imperdibili appuntamenti al Teatro Apollo di Lecce, con le coreografie di Freddy Franzutti. Domenica 13 ottobre, From Italy With Love, una cartolina dalla cultura italiana. Sabato 16 e domenica 17 novembre, la nuova produzione Ionio Sud Barocco, il movimento in tre parti su musiche di Johann Sebastian Bach, eseguite dall'orchestra Oles. Conclude la stagione di Danza, sabato 8 e domenica 9 febbraio 2025, Il Cigno, spettacolo di teatro, musica e danza, ispirato alla vita e alle opere del coreografo Michel Fokin, con l'attore Andrea Sirianni e il pianista Scipione San Giovanni. La stagione di Danza del Balletto del Sud, dal 13 ottobre 2024 al 9 febbraio 2025, al Teatro Apollo di Lecce. Per informazioni e prevendite 0832 45 35 56 info-ballettodelsud.it www.ballettodelsud.it Pieno di Musica E di uomini che ti sottotitoli